Allora io voglio sgomberare un po' il campo perché sono anche abbastanza franco e sincero quando parlo per dirvi che non è che la clausola di supremazia noi ce la siamo trovati perché la politica è debole la clausola di supremazia noi ce la siamo trovati perché il governo e la maggioranza hanno deciso che quella era una clausola che conveniva inserire dal nostro punto di vista io concordo sul fatto che la riforma del titolo quinto della Costituzione ha causato alcune sovrapposizioni di competenze che hanno causato anche dei danni questo è certo ma non è che questa sovrapposizione di competenze noi la dobbiamo per forza risolvere col centralismo perché il dibattito che noi facciamo oggi o che tentiamo di fare rispetto alla sussidiarietà orizzontale o sussidiarietà verticale dal mio punto di vista è purtroppo un dibattito non superato ma addirittura che non può essere affrontato perché noi con le riforme che ha fatto questo governo siamo tornati indietro di anni e anni e anni lo dico in tutto e per tutto non è che se noi diamo quattro schiaffi alle regioni e le regioni non reagiscono perché non sono come Rocky Balboa gliene possiamo dare un quinto perché affinché continuiamo a tagliare le risorse agli enti locali e non differenziamo coloro i quali sono efficienti e coloro i quali non lo sono noi continueremo ad aumentare la spesa pubblica e questo è evidente perché ce lo dite anche voi nel vostro rapporto il PIL migliora con il federalismo ci sono 800 miliardi di spesa pubblica qual è l'effetto del decentramento? La crescita allora per quale motivo noi non decentriamo? Per quale motivo noi non applichiamo il federalismo fiscale? perché anche qua ci vuole un po' di chiarezza, si dice il federalismo fiscale ha portato nuove tasse è falso, il federalismo fiscale non è stato applicato, non è quello che ha portato nuove tasse sono i tagli del governo rispetto agli enti locali e non solo di questo governo di questo governo in gran parte ma non solo di questo governo perché se no non sarei obiettivo che hanno portato gli enti locali a servire con l'ordinaria amministrazione attraverso un nuovo gettito fiscale aumentando la pressione fiscale dei cittadini ma non possiamo dare la responsabilità agli enti locali, dobbiamo dare la responsabilità a chi ha tagliato allora qual è per noi la soluzione? Quale continua ad essere per noi la soluzione? perché se questa è la non applicazione del federalismo fiscale e causa di spesa pubblica di aumento del debito pubblico e di aumento della pressione fiscale allora la soluzione non è la clausola di supremazia, la soluzione non è il centralismo la soluzione è il contrario, questo è quello che pensiamo noi e lo dico perché ci sono alcune considerazioni da fare perché noi nelle valutazioni che facciamo anche rispetto all'attività degli enti locali e dei territori ci dimentichiamo sempre che il vero criterio per affermare se un servizio territoriale è efficiente o meno è il rapporto tra la spesa e gli abitanti questo è il criterio forse unico ma sicuramente il più importante per determinare qual è il vero efficientamento della spesa decidiamo che vanno applicati i costi standa benissimo, applichiamoli applichiamoli perché ci sono regioni che pagano i pasti in ospedale 6 euro e mezzo al giorno 6 euro e mezzo al pasto e ci sono regioni che invece lo pagano quasi 10 volte tanto ed è lì che noi sprechiamo e dobbiamo capire per quale motivo succedono queste cose ma nel momento in cui noi non affrontiamo queste condizioni e addirittura, perché questo è quello che succede parliamo del Comune di Roma, il governo l'anno scorso gli ha dato un miliardo di euro al Comune di Roma e noi dobbiamo capirci per quale motivo ci sono degli enti locali che non riescono a deficientarsi rispetto anche a quello che fanno gli altri perché l'applicazione del federalismo fiscale è per noi tante cose è un cucetto innanzitutto culturale questo è un paese fatto da identità e da territori estremamente diversi tra di loro perlomeno a livello di mentalità nascondere questa cosa è nascondere la realtà allora per fare in modo che tutte queste identità e tutte queste mentalità possano avere valore aggiunto l'unico modo è applicare il federalismo fiscale l'unico modo è il decentramento l'unico modo, l'ha detto qualcuno di voi prima è mettere in competizione le esperienze singole sui territori e questo è successo in alcuni casi soprattutto nelle competenze date alle regioni facendo in modo che ci sia qualche ente che attua delle esperienze positive anche rispetto alla qualità dei servizi e all'efficientamento della spesa in maniera tale che ci sia qualche altro ente che copia quell'esperienza così noi risparmiamo e efficientiamo i servizi per cui è un concetto culturale nelle varie differenze è una competizione sana e qualitativa ma è soprattutto un concetto di trasparenza e responsabilità ci sarà il sindaco di un comune che quando gestisce le tasse sul proprio territorio il gettito fiscale pagato dai suoi cittadini sul proprio territorio comunale che nel momento in cui chiederà nuova imposizione fiscale sarà costretto ad andare a casa perché voteranno un altro e noi avremo degli amministratori responsabili e ci sarà della trasparenza sui territori questo potrebbe evitare anche un principio di corruzione e questa è una delle soluzioni assolutamente noi dobbiamo affrontare questa questione ma il prima possibile io ritengo che le soluzioni portate dal governo in materia di riforma fiscale in materia di tagli agli enti locali e alle regioni in materia fiscale, finanziaria, di gestione dei bilanci e anche comunali siano proposte che ci fanno tornare indietro anni luce perché i paesi che funzionano oggi anche rispetto alla crisi economica che ripartono più velocemente rispetto alla crisi economica sono quei paesi che hanno il federalismo sono quei paesi federalisti e noi dobbiamo credere in questa cosa sicuramente non fare un dibattito solo ed esclusivamente di colore politico ma fare un dibattito sul concetto delle autonomie su un concetto culturale assolutamente lo dobbiamo affrontare e lo dobbiamo fare aggiungo una nota polemica che io mai mi sarei aspettato da un governo fatto principalmente da sindaci e da amministratori da ex sindaci e da amministratori un passo indietro come questo rispetto alle autonomie chiudo dicendo che io credo nella sussidiarietà ma dal mio punto di vista la sussidiarietà verticale o orizzontale è un concetto che è conseguente all'applicazione del federalismo e del decentramento assolutamente però la sussidiarietà per me vuol dire comunità la sussidiarietà vuol dire che i territori affrontano le questioni insieme che i territori sono comunità che i territori decidono come spendere le risorse per il bene dei propri cittadini in un concetto di trasparenza e di massimo decentramento se noi ci diciamo che il federalismo fa aumentare il PIL che il decentramento porta alla crescita allora ci stiamo semplicemente dicendo che le soluzioni adottate da un anno a questa parte vanno esattamente in contraposizione agli obiettivi grazie